Si addormentò all'istante, sfinita dalle emozioni del giorno, ma... Non fu un bel dormire, immagini e pensieri agitati, la riportavano a quella corsa al buio, su quel ponte, tra gli spari e al volto di quella ragazza a terra, mentre perdeva la sua dolcezza, per rigidirsi come non avrebbe mai voluto. E poi di nuovo corsa su quel ponte, che non finiva mai, e quei bagliori fiamme al lato dietro, forse attorno. E il rosso oscuro della notte, che già da terra ombre distorte, e il rosso oscuro della notte, che già da terra ombre distorte, e lei è lì. Impotente con le gambe bloccate, ma perché si bloccano sempre le gambe in queste situazioni? E poi di nuovo il volto, il volto dolce di quella ragazza, ma perché ora lo ricordava, la sua dolcezza. Lei, lei che forse nemmeno mai, nemmeno mai l'aveva visto il volto di Giorgiana. Lei aveva solo intravisto una smorfia davanti a sé, mentre correva, una smorfia incredula, che da quel viso scivolava verso terra.